Allora, ci stiamo facendo una passeggiata serale, il posto qui è meraviglioso, proprio tranquillo e che dire, bisogna vivere in mezzo alla natura ragazzi, bisogna vivere sempre in mezzo di più alla natura, perché la natura ragazzi lo sbaglia mai, mi dà e si prende, c'è proprio un equilibrio incredibile, non so cosa dire, non so cosa dire perché ragazzi il posto qui è bellissimo, ora ve lo faccio vedere e ci stiamo facendo una camminata praticamente lungo il lago dove siamo parcheggiati noi diciamo, è una strada bellissima e ora ve la faccio vedere. Grazie a tutti 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 mi è venuta in mente un'idea per costruire un ripiano poi eventualmente ve lo faccio vedere la family vi saluta ciao ragazzi salve buongiorno buongiorno ragazzi che notte questo posto qua particolare stiamo dormendo veramente bene non ci sono papere uccellini e rane che urlano di notte quindi stiamo dormendo veramente bene la giornata oggi fa schifo la giornata oggi fa schifo la shura moira ha già fatto a colazione perché dovete sapere perché dovete sapere che la mattina praticamente quando ci svegliamo lei scende e io mi prendo i miei 15 20 minuti per rilassarmi perché ovviamente avere a disposizione una tenda da soli è uno spettacolo non che dormiamo male attenzione perché comunque vada abbiamo preso una sincronia né amore se tu ti giri a destra io mi giro a destra ci incastriamo praticamente e quindi sì il posto bellissimo ma il tempo fa schifo abbiamo visto che il meteo praticamente qui in questa zona dove siamo da pioggia per i prossimi 4 5 giorni e visto che noi comunque l'obiettivo è quello di salire sua nord ci spostiamo in un altro bel posto che anche quello sulla carta merita veramente tanto che qui a un'ora e mezza di macchina nel frattempo per strada ci fermiamo in un lero a marlène perché ho un progetto interessante ragazzi ho un progetto interessante che voglio fare e ora vi spiego quello che dobbiamo fare allora sostanzialmente ultimamente le gatte dormono con noi ci hanno preso gusto a noi sta bene loro si mettono praticamente solitamente o tutte e due a sinistra o tutte quante no non è vero si mettono tutte e due a sinistra dalla mia parte ora cosa succede che gli animali e chi agli animali può confermare quando dormono si prendono sempre più spazio si allargano cominciano nell'angolino poi si spalmano si espalmano si spalmano alla fine io sto costretto a dormire inclinato allora il buon francesco cosa cosa ha fatto gli è venuto il lampo di genio gli fa allora visto che a loro piace stare in alto gli costruisco una solta di ripiano appoggiato a questa sbarra e appoggiata a questi spistoni a questo sistema per sollevare la tenda in modo che prima cosa rimangono sollevate quindi loro si mettono qua sopra dormono fanno quello che vogliono e noi i piedi sotto sono liberi prima ma viene anche utile perché se dobbiamo vederci un film dobbiamo fare una live dobbiamo fare un qualcosa qui abbiamo comunque un ripiano e allora adesso prendiamo le misure sostanzialmente farò una tavola di legno semplicissima qui prendo degli uncini dei ganci che si attacca a questa a questa sbarra in modo di non andare né avanti né indietro e qui farò dei semplici rialzi dove potersi appoggiare quando viaggiamo questa tavola di legno non facciamo altro che prenderla e appoggiarla sopra sopra il piumino qua per il resto è un lavoro molto molto semplice prenderò bene la misura così me lo faccio tagliare già a misura da quelli dell'ora marlene in modo che non devo stare lì a rifilare fare disfare quindi ora prendiamo la misura ma prima di cominciare ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale in basso alla vostra destra avete praticamente un pulsante con scritto iscriviti vi iscrivete attivate la campanella così ogni volta che pubblichiamo un video nuovo vi arriva la notifica detto questo cominciamo prendiamo prima la misura nel frattempo la sua moira mi prepari la colazione gentilmente che bellina e prendiamo la misura e comincia la giornata ciao 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 allora praticamente cominciamo con i recuperi stamattina sentivamo mentre chiudavamo il tendalino c'era un furgone un qualcuno che comunque stava facendo fatica arrancava anche perché qui è tutta roba fangosa e quindi adesso stiamo uscendo praticamente al fuoristrada e c'è un signore che ci ha chiesto se la macchina è 4x4 ovviamente chiaramente è 4x4 e a come ho capito dobbiamo tirare via il rimorchio della barca da quel furgone lui non riesce e non riesce a tirarlo fuori dall'acqua adesso vediamo un attimo se tirarlo via quella macchina oppure quel vericello almeno ragazzi proviamo sto vericello maledetto non abbiamo modo di usarlo adesso vediamo un attimo comunque dai aiutiamo qualcuno in difficoltà questo poi importante essere sempre consapevoli che a volte possiamo veramente dare una mano e quindi in caso di bisogno mi raccomando che è passato se non ho trovo il barco ahi Sì Tiene buona carri, amico Tiene buon coche Tu non prende cangredo, non prende cangredo come io e noi non prende questo coche Tu lavoras di altra cosa Tu lavoras di molto tempo qui Tres giorni Tres giorni Tres giorni Tres giorni E' che a mi mi ha toccato perché ho visto cose qui in questo pantano che non puoi pescare Non, non Però per acampare sì E poi per vedere che è raro che c'è cangredo Non puoi pescare No Ma qui non No Levate, levate, levate il cavo Ah, perché dice che sfrega il gancio a terra, ha capito? Ah, per esempio Ah, per esempio Ah, per esempio E' il canale Per esempio E' il canale Il canale è una mercedes 4, si si ha estropeato, è cattiva più catture e ho entrato all'inforzato non ma doveva patinare certo siamo un po' drogolte così un taco, per che non si vieno sì sì uno e uno o due non so se con la mia carrozza sarà, proviamo sì è pesante non c'è pesante spero, vediamo se si arriva sì sì, arriva perfetto operazione verricello fatta sono contenta perché comunque abbiamo dato una mano è sempre una persona una bella cosa dai e poi abbiamo usato il verricello adesso devo lavarmi le mani grazie a tutti vediamo se ci vediamo qui viviamo in un paese che è a 30 km da qui si? a 30 km si chiama Puebla della Calzada Puebla della Calzada Puebla sta tirando la nava è un pochino più oltre se volete a qui chiedete a Pepe il pescador di cangrego Pepe il pescador che conoscevano la gente una cerveza e un vino ok ciao e queste sono le cose che le cose ragazzi vanno come devono andare e lui dice qua non ne trovo pescatori perché è un periodo di ferma non possiamo pescare ma la cosa assurda la cosa assurda quando la gente mi dice ma tu non hai programmato ma tu cosa stai programmando ma tu quando hai comprato pacchi non hai pensato che è pieno di elettronica io a questa gente vorrei dire allora ragazzi la vita parliamoci chiaro la vita a me nel 2020 mi ha dato un calcio nel culo ma un calcio nel culo potente è enorme che spero che nessuno di voi lo viva ma molta di gente so già che lo sta vivendo mi ha dato un calcio nel culo da questo calcio nel culo molto ma molto brutto si è aperto un mondo nuovo si è aperto un mondo nuovo stamattina noi eravamo indecisi se partire o no ti ricordi? si era destino che dovevamo partire si lei mi fa amore ma ne vale la pena stiamocene qua il posto è bellissimo siamo tranquilli se questa mattina io lascio ora moira non partivamo lasciava la barca lì ha detto lasciava la barca qui si sparava i 30 km a casa e veniva qua con qualcuno le cose vanno come devono andare quindi è giusto riflettere nella vita ma non state troppo tempo a pensarci perché sennò il tempo passa e non ve ne rendete conto lui cosa ha detto? lui ci ha spiegato che con questo furgone Mercedes Vito ha molti cavalli il problema è stato quello quello non è un Mercedes è un Fiat Ducati non so cos'era ha detto che aveva molti cavalli quindi non riusciva patinava ha detto sostanzialmente che patinava è bastata un po' di pendenza un po' di erba bagnata per non farlo uscire però come a qualche hater sa scritto non serve un 4x4 basta un furgone e trazione anteriore ecco il furgone e trazione anteriore non riusciva a tirare fuori la barca dal fiume ciao ragazzi va proseguiamo il viaggio andiamo un'unica qua che ci fermano facciamoci la maschilina siamo turisti il virus non esiste più capite perché io mi incazzo su queste cose qua perché loro sono qui a fare i posti di blocco perché praticamente in Spagna da regione a regione non ci si può spostare perché il covid è un virus che uccide perché il covid perché il covid ragazzi a noi turisti non ci fermano allora sto covid c'è o non c'è pagliamoci chiaro ed ecco che torniamo al discorso il mio fare arrogante non è un fare arrogante ragazzi io sono così a me le cose l'ingiustizia a me non piace e se vede una cosa che non mi piace ci lotto amuso duro non mi interessa delle conseguenze ho sempre vissuto così ho 39 anni ragazzi ho costruito tanta roba ma l'ho anche distrutta non mi interessa quindi io sono fatto così pane pane vino al vino non paga sempre ragazzi perché è vero perché purtroppo in questa società moderna dire le bugie è molto meglio che dire la verità questo adesso così lampante è un chiaro esempio che c'è qualcosa che non va cioè turisti a noi non ci hanno mai fermato noi ci hanno mai fermato a noi non ci fermano ai turisti non ti fermano cioè eppure dovresti fermarmi ma proprio a me dovresti fermarmi perché giro tantissimo e potrei trasportare questo virus e giro per il mondo e invece no quando capiscono che siamo turisti vai 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 zio non ti preoccupare che è una roba assurda vabbè comunque queste cose vanno come devono andare in diretta ci voleva fermare poi ha capito che non siamo spagnoli e ci ha lasciato proseguire infatti quando parliamo con gli spagnoli e scoprono che noi stiamo girando tranquillamente tutta la Spagna dicono ma scusa come è possibile a noi ci fermano e ci fanno le multe perché cambiamo quando cambiamo regione e a voi vi lasciano girare fatevi un paio di domande fatevi eh non si può fare il giro è lunga la nostra location è praticamente di là quindi cava una stradina sterrata google mappa ci ha mandato di qua ma la stradina sterrata finita nel lago quindi si vede che il lago con le piogge che ci sono stati è salito è salito e c'era una strada qua si guarda dalla mappa c'era una strada qua che proseguiva quindi adesso dobbiamo girarci e entrare in un'altra stradina sterrata più avanti che posto eh ho controllato c'è anche la linea internet non pensavo neanche buona c'è il legno buona sei imbattuta buona buona girate in un fazzoletto ragazzi mi raccomando però prima di fare manovre guardatevi bene intorno se c'è un buon posto vedete quello che vi dicevo io quando abbiamo attraversato i pirenei dalla spagna c'è dalla dalla francia alla spagna qui per esempio hanno messo un cartello si può tranquillamente aprire l'importante che la si chiude adesso vediamo un attimo di aprire è Grazie a tutti Grazie a tutti Dopo finisce dentro il lago Abbiamo questa piazzola qua Che è un bel po' dentro l'entroterra Quindi eventualmente vi metterò Le coordinate Ma noi comunque mettiamo anche Dei luoghi nuovi su Park4night E quindi Tanta roba Adesso però controlliamo il sole È vero che non c'è il sole Però controlliamo sempre il solito discorso Dove sorge e dove tramonta Così posizioniamo la macchina nel migliore dei modi E pochi minuti Siamo operativi Abbiamo costruito casa Il sole sorge di là E tramonta di là Quindi i pannelli solari sono sempre esposti E niente Facciamo pascolare un po' le pecorelle E poi Alle 4 di pomeriggio magari vediamo di cucinarci qualcosa Perché ragazzi Io ho una fame allucinata Non so voi Ma io ho fame Che pace ragazzi Che pace e che silenzio Che c'è in questa location Di giorno qualche camion In sottofondo si sente Contro ciò che la strada La superstrada è lì Forse a un paio di chilometri Però nella valle Si propaga tutto il suono Però adesso c'è un silenzio inquietante Proprio Inquietante abbiamo detto Oggi giornata molto impegnativa Molto impegnativa Mi sono anche incazzato E quindi Vabbè Ogni tanto capitano anche queste giornate Ragazzi Non siamo mica sempre Con il sorriso E il tempo qui fa schifo Il tempo fa schifo E come sempre Come sempre ragazzi Mai guardare il meteo Perché il meteo Qui in questa zona Dava bello Da stamattina in poi E invece adesso ci dà Praticamente un paio di giorni Di brutto tempo Di pioggia E È così da oggi Da oggi pomeriggio Ma non ha fatto una goccia d'acqua E adesso vedremo Stanotte sicuramente viene a piovere E penso anche domani mattina Perché è veramente Veramente scuro il tempo Però A noi non ce ne può fregare di meno Tanto siamo attrezzati Se domani mattina Ci svegliamo Che Piove di brutto Ci montiamo anche le nostre pareti E quindi siamo Siamo tranquillamente operativi E adesso mi stavo Facendo L'ultimo caffè La Shura Moira È già In tenda E E niente Con questa mitica notizia Vi saluto Ci vediamo Domani Vediamo se riusciamo a fare il lavoro A questo punto Con la pioggia Però se mettiamo le pareti Io riesco a lavorare senza problemi Ci vediamo domani Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti